Lo potrebbe anche calciare, lo fa anche Pirlo! La quinta va via, è lentissimo, è la quinta, è saltato, Vincenzo! Yeah, quinta! Ma Pirlo ha avuto, ci d'ordino! La quinta va via, è la quinta, è la quinta, è la quinta, è la quinta! Francesca! Tanti, 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 tanti! Zembrotta, prova il sinistro, Gianluca, Zembrotta, c'è tempo per il traverso di Cannavaro, Luca, Toni, Zembrotta passa in mezzo, Zembrotta ancora dentro, Luca, Toni,